Guardia alta in Campania dove resta preoccupante la situazione sanitaria. I dati dell'unità di crisi segnalano come la regione sia ormai vicina alla soglia critica del 30% dei posti occupati ed è osservata speciale nel monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che traccia la mappa del rischio. Le corsie degli ospedali scoppiano, le ASL sono al lavoro per aumentare i posti letto e fare spazio ai nuovi ricoveri. Le file di ambulanze e pronto soccorso dove sono parcheggiati i pazienti testimonia lo stress elevato cui è sottoposto il sistema. Sotto osservazione soprattutto l'area metropolitana di Napoli dove l'indice di contagio resta tra i più alti d'Italia. Numeri confermati dall'unità di crisi. Nelle ultime ore sono 2427 nuovi positivi 31 dei quali con sintomi. Nel bollettino giornaliero anche altri 17 deceduti. Al momento sono 143 i posti di terapia intensiva occupati. Ma scoppia la grana tamponi. Alcuni centri privati sono arrivati a chiedere anche oltre 100 euro per un singolo test. Costo che diventa insostenibile se allargato ad un nucleo familiare. Per questo motivo la regione ha fissato un prezzo massimo di 42 euro e 50 centesimi ma relativo ai tamponi processati nei laboratori privati convenzionati con le ASL. Un provvedimento che mira a frenare la speculazione sanitaria in un momento particolarmente complicato. L'unità di crisi sta lavorando anche su un altro fronte quello dei test di guarigione. Al momento i risultati dei laboratori privati non sono validi e serve necessariamente il riscontro ASL ma a breve potrebbero esserci novità per diminuire il carico sulle aziende sanitarie e dare risposte più veloci ai pazienti. Intanto arriva un importante riconoscimento per Enrico Coscioni, consulente del governatore De Luca in materia di sanità. Il primario in servizio all'ospedale Ruggi di Salerno è stato nominato presidente dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali.